Partirà da Piazza Sant'Antonio alle 16 di domani, domenica 15 settembre, il corteo degli indipendentisti del territorio libero di Trieste. La data non è casuale poiché ricorre il 72esimo anniversario della Costituzione del TLT. Nei giorni scorsi Giorgio Marchesic, Trieste & Go, così come gli altri organizzatori, hanno spiegato modalità e ragioni di questa manifestazione che avrà il suo ritrovo alle 14, sempre in Piazza Sant'Antonio. L'appello è quello all'unità, chiamando a raccolta tutti i gruppi o i singoli cittadini che condividono gli ideali degli indipendentisti. Il corteo percorrerà le vie cittadine per poi concludersi dal punto di partenza, dove sarà allestito un villaggio con chioschi enogastronomici e informativi per chi vuole conoscere di più la realtà del territorio libero di Trieste. Nel corso degli anni sono stati molti i gruppi che hanno lavorato o si sono esposti anche in campagna elettorale sul tema dell'indipendentismo della ex zona A. Molti di questi gruppi sono nati dopo il 2013, quando il forte grido del TLT ha riacceso l'opinione pubblica, grazie alla grande manifestazione a cui si era dato vita. Per gli organizzatori dell'evento di domani è arrivato ormai il momento di ritornare a parlare dello stesso argomento tutti assieme, poiché ogni divisione non solo sparpaglia le persone, ma soprattutto le disorienta, facendo perdere buona parte del senso di ciò di cui si vuole trasmettere. Infine una precisazione riguardo il Movimento Trieste Libera, una nota da loro diramata specifica che non parteciperanno al corteo di domani, bensì festeggeranno in Piazza della Borsa alla data del 15 settembre, aprendo la sede della stessa piazza dalle 9 alle 20 per un rifresco e una mostra storica dedicata al buon governo britannico-statunitense del Free Territory of Trieste. Grazie